La sicurezza in campo ha vinto la prima edizione dell'HSS FTC Cup di calcio a 11 disputata allo stadio Landieri di Napoli-Scampia. Il match non agonistico di calcio è finito con il risultato di due gol a zero, con le reti di Mastro Pasqua e Mingolla, ma con grande soddisfazione da parte di tutti quanti hanno organizzato l'incontro allo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza della sicurezza sul lavoro. Tra loro il consigliere comunale Mimmo Palmieri. Io dico sempre che si potrebbe fare di più, anche se il Comune ha istituito un osservatorio per la sicurezza sul lavoro, cerca di svolgere un ruolo attivo, però cerchiamo di lavorare per migliorare sempre di più quello che il Comune può fare e mettere in campo in questa materia. La partita disputata a Napoli-Scampia è stata organizzata invece da HSE Symposium dal Comune di Napoli e dall'Associazione Europea per la Prevenzione preseduta da Vincenzo Fuccillo. Questa partita, come le altre partite che organizziamo come Nazionale Sicurezza Lavoro, servono proprio a questo, al tentativo di far parlare di sicurezza sul lavoro anche i non operatori del settore, i cittadini, la società civile, coloro che poi in realtà ogni mattina vanno al lavoro. Due i tempi giocati, ciascuno da 30 minuti, poi le premiazioni, alla fine medaglie per tutti, soddisfatto l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. La partita che vuole mettere, accendere i fettori su quello che è la sicurezza sul lavoro, in un percorso che viene fatto ormai da tempo col Consiglio Comunale di Napoli che attraverso varie articolazioni consigliari riesce a tenere sempre alta l'attenzione su questa tematica molto delicata.